Speriamo che, essendo il tema di oggi delicato e rilevante anche prima del virus, su un tema delicato come disabilità, terzo settore, anziani, categorie protette, il Governo non escluda tutte le associazioni, tutto il mondo del volontariato, tutto il mondo del terzo settore, cosa che purtroppo fino ad oggi ha fatto. E chiudo, mi auguro che quanto prima, non è una questione personale, io non li conosco, li conosce la giustizia italiana e li conoscono le loro vittime, però il signor Francesco Bonura e il signor Vincenzo Iannazzo, il primo condannato per mafia in via definitiva a 23 anni di carcere, il secondo condannato in appello a 14 anni e 6 mesi di carcere per reati in idrangheta, ritornino laddove la giustizia italiana li aveva destinati, e il buon senso e il buon gusto li aveva destinati, ovvero sia in galera, e che qualcuno al Ministero della Giustizia abbia il buon senso e il buon gusto di ritirare una circolare grazie alla quale i mafiosi stanno uscendo e rischiano di uscire in maniera massiccia dalle carceri italiane, perché la libertà conquistata dai nostri nonni non è in vendita, non basta cantare bella ciao sul balcone il 25 aprile per dirsi italiani, ecco, mentre qualcuno canta bella ciao sul balcone ti escono tre camorristi di galera, cantare di meno e lavorare di più magari a qualcuno potrebbe essere utile. Ci aggiorniamo la settimana prossima su altri temi, perché l'abbiamo detto, c'è il tema del lavoro, delle partite IVA, del mondo sportivo, ripeto, non Cristiano Ronaldo o il portiere del Milan, ma tutto lo sport di base, lo sport dilettantistico, il mondo delle palestre, delle società a livello territoriale sta soffrendo in maniera incredibile, quindi anche su questo occorre intervenire.